Ciao a tutti, in questo video andremo a parlare delle 5 saghe cinematografiche che hanno incassato di più nella storia. Al quinto posto di questa classifica troviamo i 6 film diretti da Peter Jackson sul mondo del Signore degli Anelli, formato da due trilogie, la trilogia dello Hobbit e la trilogia del Signore degli Anelli. Globalmente hanno incassato oltre 5 miliardi e 850 milioni di dollari. Il film ad aver incassato di più di questa saga è il ritorno del re, con oltre 1 miliardo e 120 milioni di dollari. Al quarto posto troviamo tutti i film di James Bond. In totale i film ufficiali sono 24, più i due apocrifi che sono Mai Dire Mai e Casino Royale, da non confondersi con l'ultimo Casino Royale ufficiale. Di questa saga il film ad aver incassato di più è stato Skyfall, con oltre 1 miliardo e 108 milioni di dollari. Globalmente tutti i 26 film hanno incassato 7 miliardi e 40 milioni di dollari. Al terzo posto troviamo i film relativi al mondo di Harry Potter. Dai 7 libri sono stati ottenuti 8 film, che globalmente hanno incassato oltre 7 miliardi e 725 milioni di dollari, va a cui va sommato però anche Animali Fantastici dove trovarli spin-off dell'omonima serie, il quale è stato in grado di incassare 814 milioni di dollari. Globalmente questa saga ha già incassato 8 miliardi e 539 milioni di dollari e un nuovo film è in uscita a breve. Al secondo posto troviamo la saga di Star Wars, la quale è composta da 10 film, 8 che formano le 3 trilogie principali, ma la terza ancora incompleta, lo spin-off Rogue One e il cartone The Clone Wars. Il film ad aver incassato di più è stato Il Risveglio della Forza, con 2 miliardi e 68 milioni di dollari. Il totale di tutti i film è 8 miliardi e 600 milioni di dollari, ma gli ultimi Jedi, ottavo capitolo della saga principale, è attualmente nelle sale. Al primo posto di questa classifica troviamo il Marvel Cinematic Universe, ovvero l'universo cinematografico Marvel. Esso è composto da 17 film e la pellicola ad aver incassato di più è stata The Avengers, con oltre 1 miliardo e 518 milioni di dollari. Attualmente il totale degli incassi ammonta 13 miliardi e mezzo di dollari, destinati però ad aumentare nei prossimi anni, visto che sono previsti altri 20 film su questo universo. Grazie a tutti.